Caro Presidente Biden, Leonard Pelletier deve essere libero. Non è un atto di clemenza che chiediamo, ma un atto riparatore di giustizia, perché è profondamente ingiusto, crudele, tenere in carcere un uomo innocente, un uomo che ha difeso sempre il suo popolo da avesse azioni, sopprusi, un uomo che anela la libertà e che ha il diritto alla libertà. Quindi lei può fare questo, può dare la grazia, ma appunto sapendo che non si tratta di clemenza, ma di un atto riparatore di giustizia. La chiediamo tantissimo. Leonard Pelletier deve riuscire a camminare per le strade libero del suo paese e ovunque nel mondo, perché lo accoglieremo con grande gioia e rispetto, rispetto che gli dobbiamo.